In alcuni periodi della stagione caratterizzati da eccesso di umidità e piovosità a livello del suolo, quindi quando piove tanto magari il suolo risulta molto bagnato su una buttata di funghi già magari preesistente, in particolare di porcini, si possono verificare delle condizioni per i quali i nostri funghi commestibili, i nostri porcini, a volte vengano in un certo senso intaccati da altri funghi parassiti o da muffe comunque sempre quindi funghi parassiti che ne possono compromettere la qualità delle carni e anche la commestibilità. Questo accade come dicevamo o nei punti in cui ci sono a volte dei ristagni di acqua nel sottobosco, quindi magari proprio dove si formano delle conche quando ci piove il temporale si crea un eccesso di umidità o ancora magari in presenza a volte di ostacoli naturali. Che cosa succede? L'aspetto dei nostri porcini quindi a quel punto può ricordare o può essere similare a quello di un fungo in tutto e per tutto anche carnoso nell'aspetto e nel peso specifico ricoperto da una patina di colore biancastro piuttosto evidente. In questo caso che ricorda delle verruche patina che poi ritroviamo sia sulla superficie meniale e sia a volte sulla superficie dello stipite. Adesso lo vediamo bene in questo esemplare per esempio un Boletus edulis di buone grandi dimensioni come vediamo con una importante patina di colore biancastro presente sul cappello e presente sullo stipite alla stregua di quello che abbiamo cresciuto a fianco. Segnale della possibile presenza di una parassitosi derivante da un fungo dall'aspetto di muffa. Altri due esemplari poco distanti dalla stessa raccolta come notiamo presentano questi indicatori di ristagno di umidità, di calore e quindi comunque delle condizioni che favoriscono l'intaccamento da parte di muffe parassite, di funghi parassiti su altri funghi. Rendendo che cosa? Rendendo la carne del nostro fungo a volte più mollacciosa ma soprattutto iniziando e avviando una fase di corruzione, diciamo quindi di lenta putrefazione, di lenta diciamo decomposizione. Che cosa accade quindi? Beh quando un fungo risulta tanto parassitato con queste ragnatele di muffa e sentiamo già la carne che è un pochino più mollacciosa o cracea nel colore. Vediamo che la patina riveste completamente il nostro porcino e lo portiamo al naso potremo anche percepire un odore non sempre gradevole o con toni debolmente farinosi. Beh in questo caso la soluzione è sempre quella di lasciare i funghi nel sottobosco senza portarli a casa quando sono proprio compromessi. Anche perché in genere questi segnali quando noi li individuiamo sono forieri di una stagione fungina positiva o di un momento del bosco dove ci sono tanti funghi e quindi probabilmente avremo trovato degli esemplari migliori da portare a casa per il nostro risotto. Quando invece magari la parassitosi anche di un bel esemplare comincia ad evidenziarsi sullo stipite ma il fungo risulta comunque ancora di buona fattura, compatto, duro e non presenta ancora eventuali segni di odori sgradevoli. Ecco qua notiamo bene proprio come anche l'umidità, l'eccesso di umidità ha fatto risalire parte della parte corticale dello stipite, questo è proprio un segnale di umido, di umidità estrema, di ristagno di umidità. Allora in quel caso la soluzione è ripulire per bene il nostro fungo magari mettendolo un attimino a parte nel cestino distanziato dagli altre specie, dagli altro raccolto, con un coltellino a sportare la parte che è ammuffita o corrotta e dopodiché consumarli ovviamente dopo cottura. Questo perché anche se la carne possa essere debolmente corrotta o comunque in fase di debole magari iniziale stadio di decomposizione, una cottura magari di 10 minuti o un pochino più prolungata non ci darà problemi nel consumare i nostri due esemplari di porcini. Ricordandoci sempre comunque quando troviamo dei funghi che cominciano ad avere cattivi odori anche commestibili ma cattivi odori, presenza di colorazioni non idonee o di formazioni che ricordano vagamente le muffe, quindi dei funghi parassiti, è bene consumarli o sempre previa cottura o comunque quando iniziamo a percepire degli odori non grati in questi esemplari lasciarli nel sottobosco a compiere il proprio dovere di riproduzione o comunque a rimanere nel sottobosco per poi trasformarsi in nuova sostanza organica nutritiva.